Presentata nella biblioteca alla Briola di San Giovanni a Teduccio, la settima delle dieci attività d'impresa finanziate dal Comune di Napoli nell'ambito del Piano Locale Giovani. È il progetto Sviluppo Napoli, realizzato con fondi ministeriali e diffuso nelle dieci municipalità cittadine. La cooperativa SEPOFA ha iniziato nel 2015 la sua attività di promozione editoriale e culturale partendo proprio da San Giovanni. Ci chiamiamo SEPOFA che è l'acronimo di Seminare delle politiche del fare. La nostra mission è quella di diffondere cultura in ambienti non convenzionali, quindi non solo aule istituzionali ma anche bar, ristoranti, piazze. Abbiamo voluto questo tipo di intervento per dimostrare che tutte le aree della città di Napoli sono al centro del nostro progetto di sviluppo legato ai giovani e legato alla parola lavoro. Ecco, non è una contraddizione. A Napoli si può creare lavoro, si può creare dal basso e il Comune non soltanto è vicino in questo ma lo stiamo testimoniando. Debora e Roberto hanno partecipato al bando pubblico, hanno deciso di mettersi in gioco e di metterci la faccia ed oggi hanno dato vita ad una cooperativa dove l'editoria è l'oggetto del loro stare insieme e dove la cooperativa oggi in questa presentazione hanno tantissimi ragazzi. Può benissimo abbracciare e vedere molti giovani in questo progetto di sviluppo. La cooperativa lancia oggi il premio di scrittura Radici Emergenti, dedicato ai racconti brevi e aperto a tutti. È la settima in tutta la città, ma andiamo avanti. È il modo con cui sostenere i giovani, cioè non con l'assistenza ma con una start-up e soprattutto puntare su progetti di qualità. Non è facile perché le richieste sono tante e sono tante belle. Qui è stato coraggioso perché si punta sull'editoria, sul libro, sulla cultura, sulla biblioteca. Ragazzi che hanno scelto la forma della cooperativa e quindi insieme per il riscatto di Napoli questo è un quartiere strategico per la nostra città, pieno di giovani tra l'altro. Il bando può essere scaricato sul sito www.sepoffa.com Se può fa? 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 Se può fa?